Musica Ragazzi e benvenuti in un nuovo video questo qui è il video sui prodotti più utilizzati del mese di maggio sempre in collaborazione con Laura alla quale mando un bacio e qui sotto trovate i link per andare a vedere sul suo canale allora parto subito e cerco di mostrarvi veramente i più più utilizzati del mese naturalmente ho utilizzato anche altre cosine però ho voluto selezionare i più utilizzati del mese di maggio allora per quanto riguarda la base naturalmente il fondotinta della Benecos che come vi dico sempre io tengo in questa confezione di neve perché mi è più pratico il dosatore e lo sto utilizzando devo dire che non è male se volete un fondotinta economico, minerale in quanto costa solamente 5 euro però veramente ragazzi non ha nulla a che vedere con quello di neve cosmetics sicuramente il prossimo anno o in autunno acquisterò quello di neve però intanto smaltisco con tranquillità questo qui della Benecos poi per quanto riguarda invece quelle occasioni speciali dove magari dovevo partecipare a una cerimonia oppure semplicemente una festa o un sabato sera sono andata ad applicare spesso questo fondotinta liquido della Bow di questo fondotinta vi ho fatto un'applicazione vi lascio qui sotto il link il video si chiama tipo una base perfetta con fondotinta bio perché vi crea veramente un incarnato spettacolare è un prodotto di cui vi ho già parlato l'unica pecca è che a me purtroppo crea imperfezioni in questo periodo stanno proprio spopolando sul mio viso e forse perché l'ho usato un po' più di frequenza all'interno non ha oli, anzi ha la salvia al secondo posto dell'inci quindi assolutamente adatto per chi tende a lucidarsi però per me purtroppo non può essere un prodotto da usare quotidianamente come vi ripeto in diversi video veramente un fondotinta che vi straconsiglio poi per quanto riguarda i correttori ho prima terminato questo qui della Nabra non mi perdo molto in chiacchiere anche perché ve ne ho parlato un po' più nello specifico nel video dei prodotti finiti comunque è un correttore che sapete a me piace tantissimo una volta terminato questo prima di iniziare l'altra confezione di scorta ho deciso di terminare questo correttore dell'Avon della linea color trend che ho inserito nel progetto smaltimento prodotti vi lascio qui sotto il link se volete curiosare sulle cose che ho deciso di smaltire questo qui è la condizione dello stick come vedete non manca tantissimo ho deciso però di smaltirlo perché era tanto che lo tenevo quindi prima di iniziare il nuovo Nabra voglio terminare questo qui insomma ragazzi non mi piace tantissimo non è male non è male però assolutamente il Nabra è a un livello superiore comunque mi impegnerò e lo smaltirò al più presto per quanto riguarda la cipria sempre questa qui della Elf la toccorretta in powder che è quasi terminata infatti non la apro perché si è cominciato a sbriciolare un po' la cialda e sapete che non mi dispiace anche una cipria economica di soli 5 euro poi come terra una volta che ho finalmente smaltito questa qui dell'Astra che sapete comunque era una cipria molto economica che però mi piaceva molto una volta terminata come potete vedere questa qui ho iniziato finalmente la mia amata Bama Mama di The Balm l'avevo già utilizzata anche mentre portavo avanti l'altra giusto per provarla magari nel weekend però adesso la utilizzo quotidianamente ed è la mia unica terra aperta può sembrare molto scura dalla cialda io ce l'ho applicata anche oggi in questo make up e come vedete si sfuma veramente con tanta facilità naturalmente io ne applico poca nel senso ne vado a prelevare poca sbatto bene l'eccesso di prodotto e poi vado a sfumare perché effettivamente potrebbe se non sto attenta crearmi proprio una chiazza per il resto mi piace moltissimo il packaging è fantastico anche lo specchietto e insomma il packaging di The Balm sono veramente favolosi per quanto riguarda i blush ne ho utilizzati diversi però ho voluto selezionare proprio quelli che ho utilizzato di più in assoluto assolutamente il Sassy Salmon di Benecos lo vedrete spesso perché è un blush che io tiro fuori in questo periodo e che mi piace molto utilizzare è un color salmone un misto tra un rosato e un pescato ed è un blush naturale quindi cerco di utilizzarlo diciamo nel quotidiano mentre un blush high cost che ho utilizzato moltissimo veramente tanto ce l'ho anche oggi è Fleur Power di MAC un colore che sono stata felicissima di aver acquistato come vedete è ben consumato ma non si vede tanto dalla cialda perché comunque ne basta pochissimo quindi costano parecchio questi blush però ragazzi mi durano veramente una vita e mezza mi piace molto è un color rosato che insomma utilizzo con molto piacere poi per quanto riguarda gli occhi allora come base ho utilizzato due prodotti allora Painterly di MAC che come sapete è la mia base ormai da diverso tempo l'altra base che sto utilizzando proprio ultimamente insomma a partire da la seconda metà del mese è questo matitone della pupa questo è un matitone da doppia punta una è completamente opaca ed è questa che utilizzo come primer l'ho indossato anche oggi e l'altra è appunto luminosa che la utilizzo per fare il punto luce anche questo è nel progetto smaltimento prodotti e la parte opaca riesco così a smaltirla più facilmente utilizzandola proprio come primer per quanto riguarda gli ombretti mi è capitato di utilizzare qualche volta questo paint pot sempre di MAC per fare dei trucchi molto veloci cioè applicavo lui un po' di marroncino nella piega e avevo fatto il trucco questo qui è il chillied on ice ed è veramente un colore molto molto luminoso adatto per fare appunto dei trucchi molto veloci e molto luminosi poi naturalmente palette immancabili sono quelle della ELF con all'interno gli ombretti MAC cioè ho utilizzato moltissimo wedge che insomma sapete mi piace molto da metterli nella piega poi la basics per prima wash che ho terminato come potete vedere adesso sto utilizzando foxy da mettere appunto sotto l'arcata sopraccigliare come vedete è una palette che sfrutto moltissimo insomma non mi perdo in chiacchiere sapete che mi piace molto poi altri ombretti vi ripeto mi è capitato di fare anche dei trucchi diversi e con palette diverse da quelle che vi mostro però queste sono quelle proprio più utilizzate ho tirato fuori la undressed me too che già utilizzavo insomma negli altri mesi però questa volta mi sono concentrata tantissimo sull'utilizzo di questo marroncino e così sarà anche per il prossimo mese perché è nel PSP e voglio smaltirlo ho utilizzato anche questo pan molto luminoso che mi piace veramente tantissimo e poi questo color tortura qui che è veramente molto bello una palette secondo me veramente ottima per il prezzo molto irrisorio che costa e poi come altra palette la sua sorellina cioè l'undressed sempre della Mua e nello specifico ho utilizzato solamente questo marrone qui che come vedete è stra stra bucato stra consumato perché appunto voglio smaltirlo poi come eyeliner naturalmente sempre il black track di MAC anche perché è l'unico che ho quindi questo sfrutto come vedete è sempre più consumato mi piace molto riesco a stendere una bella linea con il pennello in silicone della Real Techniques poi per quanto riguarda le matite quando non mi andava di mettere l'eyeliner perché magari andavo di fretta ho utilizzato queste due matite nere che ho anche smaltito quindi le trovate nel video dei prodotti finiti una è la gel liner di Essence e l'altra è la pastello di Neve Cosmetics questa mi è piaciucchiata questa qui non molto comunque trovate le recensioni un po' più approfondite proprio nel video dei prodotti finiti ho utilizzato sempre per smaltirla questa qui dell'Evril e la trovate anche questa nel video dei finiti e aveva un bellissimo era un bellissimo marrone tendente al rossiccio quindi un marrone un po' più particolare da quelli che utilizzo solitamente quindi è stato un piacere comunque utilizzarla mentre come marrone classico insomma freddo ho utilizzato questa qui di H&M che sapete io ne ho già terminata una è una matita che mi piace moltissimo anche perché scrive bene anche all'interno dell'occhio sempre per smaltirla ho utilizzato la Super Shock di Avon è un colore tortora metallizzato molto bello da mettere sia su tutta la rimacigliare inferiore esterna sia come punto luce è veramente molto molto bella molto luminosa purtroppo non è più in catalogo e poi naturalmente la pastello avorio di Neve Cosmetics che metto sempre o comunque quasi sempre all'interno dell'occhio come mascara invece l'unico che ho utilizzato è stato il Suntus Infinite di Estée Lauder ed è un mascara che mi fa delle ciglia veramente spettacolari ragazzi questo è un campioncino una mini taglia ho girato il video di applicazione non so se è già stato pubblicato se così fosse ve lo lascio qui sotto altrimenti attendete vi ho mostrato appunto l'applicazione del prodotto lo indosso anche oggi è l'unico mascara che ho aperto e che sto utilizzando in questo periodo sta anche quasi terminando e mi piace da impazzire ragazzi quando lo terminerò e terminerò le cosine che ho in casa valuterò l'acquisto perché mi fa delle ciglia veramente pazzesche concludiamo il video con 4 rossetti che voglio mostrarvi vi ripeto naturalmente ho utilizzato anche altre colorazioni però queste sono proprio le più utilizzate assolutamente devono ordinarvi il Girl About Town di MAC è un rossetto da me molto molto utilizzato un amplified che è praticamente una tinta sulle labbra voi lo andate ad applicare lui vi verrà tutta l'intera giornata nonostante voi mangiate le bevete lui è sempre lì veramente un colore e una tenuta eccezionale è un rossetto che vi straconsiglio soprattutto per questa stagione un altro fucsia che ho utilizzato è stato lo 05 di Kate Moss della Rimmel perché come potete intuire vorrei smaltirlo mi ci vorrà comunque diverso tempo però insomma ci provo ed è un fucsia un po' più tranquillo diciamo rispetto al Girl About Town un altro fucsia perché insomma in questo periodo non indosso per niente fucsia è il Sex on the Beach di Paolo P allora io mi piace molto la stesura di questo prodotto perché è molto confortevole e molto morbido per quanto riguarda la durata vorrei testarlo un attimino di più vorrei metterlo un po' di più alla prova comunque non mi è sembrata proprio scarsissima favoloso il packaging è veramente molto molto bello e ringrazio Jessica per avermelo regalato un bacio bella e l'ultimo che vi mostro è un rossetto rosso che è appunto il Viva Glam di Rihanna ed è questo qui è una colorazione è un frost quindi all'interno delle perlescenze insomma un po' di luminosità ma ha una durata veramente spettacolare soprattutto se lo abbinate ad una matita dello stesso colore e bene ragazzi questa è quella di tutta la parte di make up più utilizzata adesso passo a mostrarvi qualche cosina di skin care per quanto riguarda i prodotti di skin care o cura dei capelli allora ho da mostrarvi qualcosina di nuovo che ho introdotto nella routine allora come crema idratante sto utilizzando questa qui della Lavera che è alla calendula e allora diciamo che è un pochino forse pesantina per me per la mia pelle in questo periodo magari in autunno e inverno sarebbe stata perfetta come crema giorno io la sto comunque utilizzando perché non è che mi lucidi particolarmente però forse qualcosina di più leggero sarebbe stato più opportuno però insomma ormai l'ho aperta e quindi la vado a terminare ed ha un quantitativo di 30 ml per quanto riguarda invece il tonico come sapete sto utilizzando come tonici gli idrolati soprattutto quelli di salvia e questa volta ho iniziato questo qui della maternatura come sapete l'altra volta avevo preso quello della saponaria non c'era quando sono andata in negozio da Alessia Effetto Bio e ho preso questo qui di maternatura allora diciamo che ha un profumo non molto piacevole peggio di quello della saponaria la cosa che mi piace moltissimo è l'erogatore diciamo che come disperde il liquido insomma l'idrolato questa pompetta non lo fa nessun'altra veramente vaporizza perfettamente il prodotto e questo qui permette che si asciughi anche più velocemente sul viso non ho notato particolari cose in più rispetto all'altro della saponaria quindi assolutamente però un buon prodotto a un prezzo di 9 euro rispetto magari a quello della saponaria che costa 3 euro poi come detergente struccante io ho terminato purtroppo l'acqua micellare della Sobio e avevo in casa questo prodotto di bottega verde che devo appunto smaltire ed è il gel struccante viso e occhi alla Killalia un prodotto che io ho comprato e ricomprato per diverso tempo un prodotto con il quale mi sono sempre trovata bene il problema è che adesso mi sono abituata alla micellare quindi mi manca tremendamente però devo devo terminarlo non mi va di lasciare così un prodotto inutilizzato in casa è comunque un buon prodotto a me non dà problemi di ad esempio bruciore sugli occhi anche perché io ci vado a struccare anche anche gli occhi è un prodotto che comunque non mi dispiace diciamo che ultimamente ho diverse imperfezioni sul viso e non so se magari può essere dovuto al fatto che ho terminato la micellare e ho rintrodotto lui come prodottino per la cura del viso per quanto riguarda lo struccaggio degli occhi vero e proprio io sapete che utilizzo un bifasico questo mese però invece di ricreare il mio solito bifasico che insomma faccio sempre con acqua demineralizzata e olio di mandorle dolci ho voluto semplicemente adottare un metodo molto molto semplice quindi prendo il dischetto struccante lo vado leggermente a bagnare sotto il rubinetto e poi vado a versare sopra l'olio di mandorle dolci questo qui è del lotion mi trovo molto bene con questo metodo in questo modo non devo miscelare l'acqua con l'olio quindi non creo problemi di eventuale andata male del prodotto ma vado a utilizzare semplicemente l'olio sul dischetto di inumidito quindi mi trovo veramente bene con questo metodo e continuerò ad andare avanti così poi per quanto riguarda sempre la cura del viso ragazzi volevo segnalarvi un prodottino che io utilizzo sempre quando c'è un brufolo particolarmente bruttino che magari mi esce sul viso sto parlando di questo prodotto qui della linea pelle pura di bottega verde ragazze un tubicino che non finirò mai perché è veramente tanto io lo uso molto raramente cosa fa questo? io lo vado ad applicare una piccola quantità sul brufolo direttamente magari non so la sera prima di andare a dormire la mattina il brufolo è completamente secco ragazzi se completamente si è tolto l'arrossamento intorno magari al brufolo e si è proprio seccato il brufolo stesso un prodotto per me must have un prodotto che è fondamentale per me in queste situazioni però vi ripeto la quantità è altissima io ne utilizzo veramente molto poco per quanto riguarda la cura dei capelli voglio parlarvi di un nuovo prodotto che sto testando della maschera per capelli ecobiologica all'olio di macadamia della Omia una maschera molto famosa che io provo solamente adesso è un quantitativo di 250 ml mi sta piacendo moltissimo allora questa qui è certificata CEA quindi se cercate un prodotto bio da supermercato assolutamente questo può fare al caso vostro io la utilizzo come balsamo quindi la applico la faccio stare in qualche minuto e poi la vado a risciacquare e mi lascia i capelli veramente molto morbidi molto districati anche un piacevole profumo quindi sicuramente sarà il mio balsamo per diverso tempo e concludo con un prodotto per profumare il corpo è questa acqua profumata della The Body Shop che mi è stata inviata dall'azienda al tè verde è veramente piacevolissima per questo periodo perché è molto molto fresca ha una buona persistenza se voi cercate un'acqua profumata per il corpo questa ha un quantitativo di 100 ml ed un costo di 19,90 euro quindi assolutamente fattibile per il quantitativo e quindi nulla ragazze questi sono stati i prodotti che ho più utilizzato nel mese di maggio spero di avervi tenuto compagnia di esservi stata utile per qualche recensione su questi prodotti vi mando un bacio a voi e a Laura e se volete ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao